E' sopravvalutata Contrario Perché puoi cambiare partner senza impegnarti con nessuno Puoi goderti il tuo cane se hai un cane e la televisione No, bellissima, sono fidanzata però è bellissima Io sono single quasi da un anno ormai Secondo me la vita da single è sottovalutata Perché la crescita personale che si fa quando si è single Secondo me è in coppia E' più difficile Sono dall'accordo Allora questa ti giudicherò tantissimo Basciare ma tipo magari per un gioco della bottiglia Io ho fatto Vabbè se la metti così Allora però se lo fa Io devo essere coerente con me stessa Non hanno specificato se in dinamiche giocose Amiche non vi preoccupate Cioè è gioco, goliardia Allora io sono favorevoli però voi non fatelo Se volete avere delle amiche Io non ho amiche A me adesso Li tengo a freddo Sì dai basta che se fa sesso Poi se stai cocazzini senza bastellarie mutanti Ma basta farlo Cioè ma magari Si può ma non si dovrebbe Sì quindi Cioè se proprio in situazioni che dici vabbè o non No allora Diamo il buon esempio Dai sì Io pure Bisogna comunicare a letto Quindi se effettivamente non hai avuto un orgasmo Dopo se ne parla È meglio dirlo Sempre Dai Non lo volevo fatta finita No perché poi traspare No no Sì però Si vanno Un'attenzione Di sicurezza Persone fidate Sappiano che quella roba rimane a loro ed è solo loro ma comunque resta tua Certo Si può anche non farlo se non si sente la necessità di masturbarsi Non è necessario farlo secondo me però Favorevoli o contrari l'importante è essere soddisfatti del proprio benessere sessuale Grazie a tutti